Sono tre le province in Toscana che inizieranno per prime ad attivare il 112 come numero unico per le emergenze. Firenze e Prato, per la provincia di Arezzo, per il momento partirà soltanto la zona del Valdarno, che ha cioè lo 055 come prefisso telefonico. Per il distretto 0575 il graduale passaggio da 118 a 112 è previsto nel mese di febbraio. La sala fiorentina è composta da 28 postazioni, coordinerà tutte le chiamate facendo d'affilto tra i cittadini e le attuali 80 centrali operative regionali di secondo livello. A regime riceverà 6.500 chiamate, 4 al minuto. Tra i vantaggi c'è la geolocalizzazione delle chiamate in arrivo grazie al centro di elaborazione dei dati del Viminale. L'operatore sarà infatti in grado di visualizzare sul proprio schermo il luogo della telefonata. Inoltre la centrale è raggiunta dall'e-call le chiamate di emergenza automatiche che inviano le auto immatricolate dopo il 2018 in caso di incidente. Ci sarà anche un servizio multilingue, il supporto all'utente ipovedente ed infine sarà possibile scaricare una app che si chiama We Are You. Si tratta di un'applicazione per le emergenze collegata alla centrale del 112 grazie alla quale si potrà contattare la sala anche attraverso una chiamata muta inviando cioè solo la posizione in caso di pericolo o minaccia.